Lunga intervista rilasciata da Henrik Mkhitaryan alla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista dell'Inter ha parlato delle novità e degli obiettivi per la prossima stagione. Siamo in un momento di trasformazione, siamo cambiati molto rimanendo noi stessi. Forse le caratteristiche dei singoli sono diverse, ma non la struttura e il modo in cui giochiamo. Lavoriamo per migliorare tutti insieme, grandi e piccini. Ciao famiglia Nerazzurra, benvenuto nel nostro canale di notizie dell'Inter, unisciti alla nostra community di YouTube mentre ti portiamo gli ultimi aggiornamenti dalla migliore squadra in Italia. Iscriviti e attiva le notifiche per essere sempre avvisato quando escono nuove notizie qui. A proposito di nuovi arrivati. Seguo Turam da tempo, l'ho visto in Germania e mi è piaciuto il suo modo di muoversi. È veloce e tecnico, starà a noi servirlo in modo diverso, lui, ad esempio, ha una grande progressione da esplorare. Aiutiamolo a migliorare, ma sicuramente migliorerà anche noi. A centrocampo abbiamo perso un giocatore importantissimo come Brozovic, ma è arrivato frattesi ed è fortissimo. Oltre a saper fare assist e giocare palla, sa fare gol, appena vede spazio corre veloce e questa è una caratteristica importante. Se ben servito può essere un'arma in più, unità alle tante che già abbiamo in squadra. Samarczyk. Giocando contro di lui lo scorso anno, tutti abbiamo visto un talento con grandi potenzialità. E non ho mai pensato che la competizione fosse un problema, più siamo, più possiamo aiutarci a vicenda. Infine, sugli obiettivi. Il nostro centrocampo tra i migliori d'Europa? Forse è così, ma poi devi passare dalle parole ai fatti. Con le prestazioni dobbiamo dimostrare di meritare tutta questa considerazione. La stagione sarà lunga e questa abbondanza può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. In Champions League raggiungere la vetta una volta è meno difficile che ripetere lo stesso percorso o stabilizzarsi a un certo livello. Certo che siamo pronti alla sfida perché abbiamo una squadra molto forte, vediamo chi riesce ad entrare nel gruppo e poi la gara ricomincia. Erano qui. E non c'è solo la Champions League, lo scudetto è l'obiettivo di tutti, sappiamo quanto sia importante per i tifosi, ma non dimentichiamo la Coppa Italia e la Supercoppa. Li vogliamo anche noi, sono trofei e se li vinci avrai fame di continuare a vincere. Cosa ne pensi delle parole di Henrik Mkhitaryan? Commenta qui sotto.